della Milan Image Art Fair fino a domenica negli spazi del Super Studio Plus in zona tortona da poco lasciati liberi dalla settimana del design da un lato mostra da guardare, dall'altro immensa galleria in cui fare acquisti senza dover essere miliardari non si può acquistare arte solo per business, bisogna acquistarla per amore la fotografia permette di gratificare i collezionisti con delle opere di contenuto interessante esteticamente estremamente gratificanti a un prezzo che ancora gli permette di poterlo fare con una certa disinvoltura un tempo la foto come opera d'arte era faccenda quasi sola americana, ci racconta uno dei galleristi più famosi oggi invece i collezionisti in Europa sono sempre di più i prezzi in effetti variano tantissimo, da poche centinaia di euro per stampe moderne a tiratura aperta a volte anche di nomi noti, alle serie limitate, questi scatti di moda di Herb Ritz vanno da 10.000 a 30.000 euro ai pezzi unici queste piccole polaroid di Andy Warhol arrivano fino a 50.000 dollari